Altro metodo di preparazione delle uova, lo facciamo strapazzato, quindi per cui padella on the fire, olio, questa volta un po' di meno, rompiamo l'uovo, lo gettiamo e iniziamo aprendo prima il rosso così e poi lo giriamo nella padella con la cucchiarella e piano piano fa tutti questi grumini che sono quello che noi andiamo a cercare dall'uovo strapazzato. Mettiamo in padella, si lo mettiamo nel piatto, che padella? Messo nel piatto sale e pepe, eccoci qua, eppure questo è pronto!